Ciao a tutti ragazzi, siamo qui oggi con una merenda tipica per i bambini australiani. Abbiamo già pronto una fetta di pane tostato, a cui andremo ad aggiungere un pochino di burro e poi il Vegemite. Che cos'è il Vegemite? Il Vegemite è una sorta di crema spalmabile. A guardarla sembra Nutella, ma fidatevi non è Nutella, almeno l'ho assolutanto annusata, ma l'odore è veramente molto forte. È fatta con lo scarto del lievito di birra. Vi annuncio anche che il Vegemite è molto famoso qui in Australia come merenda per i bambini. Diciamo che potrebbe essere paragonabile alla nostra Nutella, solo che la Nutella è buona e il Vegemite non penso. Quindi ora andiamo a farcire il nostro panino, la nostra fetta di pane con burro e Vegemite e poi andiamo all'assaggio. Ok, primo passaggio, burro abbondante su entrambi alle parti. E secondo passaggio, un pochino di Vegemite. Io vi dico, solo aprendo il barattolo, puzza tantissimo. Quindi adesso cercherò anche di spalmarlo per bene e soltanto da una parte. Non ce la farò mai, ma non mi importa, perché non è propriamente una crema spalmabile. Si fa sempre un po' di fatica, quindi rimane un po' agrumi. Quindi avrò il boccone pieno di Vegemite e il boccone con solo burro e pane. Ok, questo è il meglio che posso fare. Andiamo a richiudere e andiamo all'assaggio. E adesso non solo assaggiamo, ma me lo mangio proprio tutto in diretta. Allora, adesso che ho finito posso dirvi quello che penso. Da solo molto probabilmente fa schifo, anzi ne sono certa. Pur non avendolo assaggiato, solo l'odore è veramente nauseante. Ma con il pane e un bel po' di burro sopra, secondo me non è così male come si può pensare. Questo, come ho detto, lo danno ai bambini perché è ricco di vitamina B e quindi fa bene. Io se dovessi vivere in Australia una bella fetta con pane e nutella ai miei figli nel caso non gliela toglie nessuno. Il Vegemite lo lasciamo a qualcun altro. Se passate dall'Australia sicuramente è da assaggiare. Non vi conviene comprarne un barattolo intero anche perché questo qui, io questo qui non l'ho comprato. L'ho chiesto ai farmer se potevo gentilmente prendermi giusto una puntina, giusto per assaggiarlo in maniera tale da fare anche al video. È loro e lo danno ai figli. Io da bambina non penso che mi sarebbe piaciuto, poi al bambino mi sembra che piaccia, quindi non so. Vi ho detto quello che penso, vi ricordo che in descrizione vi metto come al solito i link a tutti i miei social. In particolare vi ricordo Facebook, Instagram e Twitter che sono quelli che uso di più. Se il video vi è piaciuto mettete un like. In basso potete anche lasciare qualche commento. Se magari avete assaggiato anche voi il Vegemite potete dirmi cosa ne pensate. Se volete potete condividere quel video con i vostri amici in maniera tale da far conoscere anche a loro il Vegemite e far vedere anche a loro la mia reazione. Detto questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!